E a Terra Nuova problemi anche all'acquedotto a seguito delle frane di questi giorni. Dettagli nel servizio di Alessandro Forni. Per ironia della sorte, le abbondanti piogge hanno portato anche ad un problema idrico a Terra Nuova. L'ultima frana infatti, lungo Poggio Orlandi, ha intaccato il servizio dell'acquedotto e quindi il centro cittadino ed il fondo valle interni al comune sono stati senza acqua da stamattina per l'intera giornata. Si è verifiato un movimento franoso sulla strada di Comunale Poggio Orlandi dove passa la linea dell'acquedotto di Publiacqua. Questa mattina, dopo ieri furono fatte le verifie, stamattina si è verifiato quello che ci si immaginava, che si è sfilato il tubo e quindi è stato interrotto il servizio. Quindi non c'è acqua in questo momento, è nell'arco della giornata a Terra Nuova. Publiacqua è intervenuta 20 minuti dopo dalla rottura. Questo è un intervento provvisorio, nell'attesa poi di programmare il vero intervento strutturale che permetterà di attivare la linea dell'acquedotto come era precedentemente. Situazioni non normalizzate, peraltro, in molte altre strade che portano alle frazioni. Raggiungere i borghi fuori dal centro costituisce, purtroppo, ormai da due giorni, una vera e propria gincana automobilistica per molti qui residenti.